Non fare questo colpo ma esplodi il difensore sul cielo Grazie 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 Sette nove No Otto nove Andiamo sicuro Otto dieci No che ero rimazzuto però Sette dieci questa è la quarta battuta No questa è la masona No Ma non glielo andrò mai Figurati No 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 Voi 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.